Questa mattina ho incontrato a Roma il ministro Piantedosi. Il sindaco di Vicenza a Roma dal ministro dell'interno. Obiettivo? Chiedere il ritorno dell'esercito sulle strade della città. Gli avevamo scritto nelle scorse settimane per chiedere l'invio anche a Vicenza di una parte del contingente destinato all'operazione Strade Sicure. Il contingente dell'esercito che dal 2017 al 2022 era presente anche a Vicenza nella zona di Campomarzo presidiando l'area e sgravando le forze e l'ordine dal controllo di quella zona della città. I vicentini chiedono risposte. Rapine, furti, sporcizia, bivacchi. C'è un escalation della criminalità e la questione è finita dritta in consiglio comunale dove il centrodestra ha chiesto all'amministrazione soluzioni concrete. Abbiamo portato a casa delle risposte concrete nell'interesse dei residenti e lo abbiamo fatto a partire da dei presidi di cautela e di vigilanza nei parcheggi più sensibili della nostra città. Parc Matteotti, Parc Verdi, Parc Fogazzaro e il parcheggio dell'ospedale. Abbiamo chiesto un rafforzamento intenso delle telecamere in città e una videosorveglianza integrata tra forze dell'ordine, commercianti e residenti. A passare all'unanimità anche la proposta firmata da Raffaele Colombara della lista per una grande vicenza. Cioè di affiancare le forze di polizia locale, le forze di pubblica sicurezza in questo momento in cui c'è una carenza di organici, degli agenti di vigilanza privati in modo che il territorio risulti maggiormente presidiato. In questo momento c'è bisogno che l'amministrazione faccia vedere la sua presenza sul territorio vicino ai cittadini. Vigilantes che agiranno a stretto contatto e a supporto delle forze dell'ordine. La sperimentazione è previsto che parta con dei fondi comunali entro la fine dell'anno nei quartieri a più alta tensione sociale. Servono risposte concrete. Ecco perché oggi, dopo il consiglio comunale di ieri sera, il sindaco è subito volato a Roma, dove ha incontrato il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, per chiedere il ritorno dell'esercito sulle strade. Il ministro ha preso in considerazione la richiesta. Insieme a questa abbiamo anche chiesto di aumentare il numero di agenti delle forze dell'ordine sul territorio. Insomma, un incontro positivo con il ministro di centrodestra. E su questo punto l'ex sindaco Francesco Rucco non può che ricordare che anche lui aveva chiesto un incontro col ministro dell'interno, ma del governo precedente. Il sindaco va dal ministro dell'interno Piantedosi, che molto cortesemente lo accoglie e apre le porte. A differenza di quello che aveva fatto ad esempio con Vicenza il ministro Lamorgese in passato. Un ministro Piantedosi che ancora una volta dimostra la sua attenzione verso il territorio.